Oltre 500 volontari appartenenti a 21 organizzazioni di volontariato impegnati in 1460 giornate uomo. A loro i protagonisti principali e gli ideatori, come ha sottolineato l'assessore regionale alla protezione civile Buttacin della prova di soccorso post-vaia nel Feltrino, è arrivato oggi il grazie unanime di tutti gli enti coinvolti. L'attività del post-emergenza è tutt'altro che conclusa e sarà ancora lunga, ma quello che si doveva fare è stato fatto a pieno, sottolinea Buttacin. La settimana scorsa abbiamo fatto il punto, essendo vicino alla scadenza, l'unica regione d'Italia che ha speso tutti i soldi è il Veneto. Abbiamo attivato, stiamo per attivare entro fine anno, oltre 1200 cantieri in giro per tutta la provincia. È una mola di lavoro immensa, qualche regione ha detto noi siamo indietro perché non abbiamo personale in più, noi, sottolineo, abbiamo gestito tutto con il personale esistente. C'è ancora moltissimo da fare, l'abbiamo detto nell'immediatezza, i danni provocati da vaia sono enormi, mostruosi e quindi ci vorranno anni. La prova di soccorso ha avuto la propria base logistica presso la caserma Zannettelli, messa a disposizione dal comune di Feltre, che nell'occasione ne ha avviato anche il recupero di un'ala. Qui è stato collocato il pollo logistico dell'esercitazione, gestito dall'ANA, come sempre in prima linea, con oltre 400 volontari sul campo provenienti da tutto il Veneto. È stato un intervento molto impegnativo, con 44 cantieri dislocati su tutto il territorio dell'Unione Montana Feltrina. L'ANA ha partecipato massivamente da questo punto di vista qui, ma c'è da dire che la cosa più importante è che tantissime associazioni di volontariato sono intervenute sul nostro territorio. Lo sforzo principale della nostra sezione è quello di garantire la logistica all'interno della caserma Zannettelli e crediamo e speriamo che questo impegno che ci è stato assegnato di averlo svolto nel migliore dei modi. Per i comuni dell'Unione che hanno beneficiato della prova di soccorso un importante risultato sul piano economico, ma soprattutto ambientale e paesaggistico. Sono stati interventi molto difficili su strade silvopastorali, sentieri e mulattiere, che sono state riaperte a transito sia veicolare che soprattutto dei turisti e degli escursionisti e questo per noi è fondamentale.